Buonasera, mi chiamo Federica Saccani, sono Executive Director in CBRE per la parte di consulenza tecnica e ambientale. Il nostro intervento oggi è stato rivolto a spiegare a grandi linee i temi che stanno dietro alle due diligence di sostenibilità per cercare di sensibilizzare anche il mondo della progettazione nei confronti dell'importanza che il momento tecnico ha nella catena del valore dell'investimento immobiliare. L'immobile infatti all'interno di un fondo diventa uno degli elementi da valutare per la decisione di investimento. I parametri che sono valutati dalla due diligence ambientale e di sostenibilità sono quelli che vengono mutuati dalle discipline dell'ID, ITACA o di BREAM. La loro valutazione finale trova una traduzione tecnico-economica nel tavolo della transazione. Un augurio per il futuro è che i benchmark internazionali possano trovare una traduzione sempre più veloce nell'ambito del patrimonio immobiliare. Speriamo che la concentrazione delle norme nei confronti del miglioramento del comportamento energetico degli asset esistenti sia un buon volano per l'evoluzione del settore anche in Italia.